Allora, un saluto ai giurati del concorso Una storia per il cinema. Sono Roberto Zito, autore del romanzo Chiodo della Terra, edito da Scatole Parlanti, romanzo che è in finale per il concorso. L'ho conosciuto, credo, tramite Facebook e da allora ho cominciato a seguirlo perché ha un premio molto ambito, soprattutto per chi scrive storie di un certo impatto visivo. Come nasce l'idea? L'idea nasce da una mia passione per la storia dell'Etna, per le varie eruzioni nel corso dei secoli e anche per tutte le vicende legate alle catastrofi nella zona orientale della Sicilia che è dominata da terremoti, frane, ma anche le eruzioni. La mia idea era infatti di scrivere un romanzo storico ambientato nel 1669, che è l'anno di una delle più grandi eruzioni dell'Etna, ma a un certo punto mi è venuta l'idea invece di spostare l'ambientazione in epoca contemporanea, cioè in particolare il 2019, che è l'anno in cui effettivamente ho poi impostato la storia e il romanzo parte da una data precisa, il 28 giugno 2019, la data in cui ho effettivamente cominciato a scriverla. L'ambientazione quindi è proprio l'Etna, i suoi boschi, i suoi sentieri, i tanti santuari sparsi nel vulcano, molti realmente esistenti, molti altri invece frutto di combinazione di altre location sparse per la Sicilia. Non c'è solo l'Etna, c'è anche Catania, ma c'è anche Milano, perché effettivamente si parte da lì, si parte con un piccolo preambolo di quello che succederà ambientato a Milano e con protagonista un personaggio, Luca, che è fuggito da Catania per dinamiche familiari che si sveleranno nel corso della storia, mentre cercherà di tornare appunto sull'Etna per salvare sua madre che è rimasta intrappolata nel corso di un'eruzione disastrosa. Di me in questa storia c'è tanto, ma è celato, è celato tramite le voci di tanti personaggi, perché appunto è una storia corale, sono in particolare sei punti di vista, sei personaggi principali. Alcuni sono molto lontani da me come caratteristiche, come vissuto, altri invece me li sento un po' più vicini, in particolare per il rapporto un po' ambivalente con la propria terra e anche con il proprio passato. Credo che sia adatta come film, perché effettivamente l'ho impostata come un film e ho tratto spunto anche da tantissimi film che ho visto, in particolare i Disaster Movie, che sono un genere che mi appassiona molto sin da bambino. È perché effettivamente non ho mai potuto vedere al cinema qualcosa del genere, ho sempre desiderato vedere qualcosa che fosse legato alla mia terra, ma anche di stampo internazionale e soprattutto di impatto visivo così potente, perché è il cinema che più amo. Come premi il romanzo ha vinto inaspettatamente tanti premi. Ha vinto il premio come opera prima al Festival U-Book di Scanno in Abruzzo, ha vinto il premio Parola per Parola al Festival di Belpasso, ha vinto anche di recente il premio della giuria al concorso di letteratura di Cessun, è stato anche selezionato dalla Biblioteca Civica di Cuneo per partecipare al concorso per il miglior primo romanzo e adesso è arrivata questa notizia di essere tra i finalisti del concorso Una storia per il cinema. Come progetti per il futuro adesso sto ultimando un romanzo comico che spero faccia ridere, almeno a me fa ridere molto, ma non so per chi lo leggerà, e vorrei iniziare a scrivere anche un romanzo storico ambientato negli anni del dopoguerra. Non voglio aggiungere altro se non ringraziarvi e sperare in qualche modo di rivederci. E a mia volta anche sperare che questo romanzo comunque catturi sempre più lettori e mi porti sempre più sorpresi inaspettate, quindi grazie.